Nel corso di servizi di vigilanza sul territorio, nell'ambito del supporto operativo fornito alla Questura, in vista di un incontro di calcio programmato nel Nisseno, la Polizia Stradale ha segnalato un uomo all'autorità giudiziaria. In seguito ad un accurato controllo, gli agenti hanno trovato nella sua auto, occultati nel bagagliaio e in una vano ruota, arnesi atti allo scasso, pinza, cosiddetto piede di porco, tenaglia e guanti di nylon, nonché un coltello a serramanico. Su un'altra vettura, nel corso di una perquisizione, i poliziotti hanno trovato una mazza di bambù lunga 65 centimetri. Durante lo scorso fine settimana, inoltre, nell'ambito delle direttive compartimentali che prevedono l'implementazione dei controlli per il contrasto agli incidenti, l'equipaggio del distaccamento gelese della Polizia Stradale ha segnalato un ragazzo, non ancora maggiorenne, privo di patente di guida, per detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish. Nel corso dei controlli sono state segnalate anche altre due persone, una per guida in stato d'ebbrezza e l'altra per detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Quest'ultima, in particolare, era in possesso anche di un bilancino di precisione e un coltello a serramanico. Quest'ultima, in particolare, era in particolare, era in particolare,